Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo tre settimane di tranquillità, la casa del grande fratello è stata scossa da rivelazioni sorprendenti da parte di Enzo Paolo Turchi. Il noto personaggio ha espresso l'intenzione di ritirarsi e ha svelato una presunta crisi con Carmen Russo. Inoltre ha manifestato gelosia e ha avuto uno scontro con una concorrente. Durante una prova di balletto con Carmen Russo e suo marito, Enzo ha interpretato male le parole di Elena Prestes, sentendosi privato di coraggio. Ha reagito con vehemenza, sottolineando la mancanza di rispetto e esigendo di essere trattato con il dovuto rispetto. Con tono deciso, Enzo ha dichiarato di non tollerare mancanze di rispetto, soprattutto considerando la sua lunga carriera. Ha criticato aspramente Elena, definendo il suo comportamento inappropriato. La moglie di Enzo ha cercato di richiamarlo, ma lui sembra non tollerarla fin dal primo giorno, senza specificare il motivo. La situazione nella casa del grande fratello è diventata tesa a causa delle tensioni tra Enzo Paolo Turchi e gli altri concorrenti. Le sue reazioni hanno suscitato scalpore e polemiche, mettendo in discussione il clima di rispetto e collaborazione all'interno del reality show. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Enzo riuscirà a trovare un punto di equilibrio con gli altri coinquilini.